A giugno ogni sera della settimana alle 21 su i canale 114 di Sky. Questo weekend a tutto rugby. Comincia la tournée in Nuova Zelanda, Bay of Plenty Lions. Gli All Blacks scelgono i migliori. All Blacks Trial Match. Da Twickenham il saluto di un grande campione. Il 15 di Martin Johnson contro il 15 di Jonah Lomu. Giornate decisive in Serie B Piacenza-Genua. Stati Uniti-Russia e Gran Bretagna per un ricco appuntamento di atletica. Da Glasgow-Norwich Union International Match. E infine continua la World League con la doppia sfida Italia-Cuba. Solo su Sky Sport. Una scorciatoia. No ragazzi. Beh. Fino a sé Albertino. Bella musica. Mi mancavano solo i DJ. Una volta però il DJ lo faccio io. Ma ci sono tutti i pezzi più forti. E anche i video. Migliaia di canzoni. Scusate se cambio musica. Il problema qui è passare. Intanto noi cominciamo a passare a tre. Oggi prendi due LG a 199 euro. Passa a tre. Due LG a 199 euro. Ma a te che pezzo ti piace? A voscia. Al forno che è patata. Giugno. Su Sky Cinema. Confermati tre alla fine tra Fiorentina e Juventus. Super Spot. Qualcosa nel cielo sta cambiando. Qualcuno sulla terra si prepara. Il coraggio dell'uomo contro la forza della natura. Aria, acqua, fuoco e terra. La furia degli elementi. Dal 20 giugno su Discovery Science. 9 tampe, 1350 chilotri di pianure, montagne e discese d'aprinto. Tour de Suisse. In diretta da sabato 11 alle 15.45 su Sky Sport 2. Con citrosodina lo stomaco ritrova il proprio benessere. Citrosodina. Per lo stomaco il giusto equilibrio. Da oggi anche in bustine. Neumedicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Immagini, pensieri e musica. Una serata dedicata al genio di Franco Battiato. Le immagini di perduto amore. Il suo debutto alla regia. Non mi manca mai il percorso. Pensieri e parole in un...